Si fingevano lavoratori comuni in difficoltà economiche e firmavano false certificazioni per poter usufruire di prestiti da società finanziarie che poi non avrebbero mai più restituito. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno incastrato una banda specializzata nelle truffe e danni di operatori finanziari che aveva creato un giro di affari di oltre un milione di euro. In manette è finito il capo, la mente del gruppo criminale che si componeva di almeno altre 56 persone, tutte denunciate. Gli accertamenti delle fiamme gialle del primo gruppo sotto la direzione della Procura di Roma sono iniziati da una denuncia presentata dall'amministratore delegato di una società raggirata. Tutto veniva organizzato nei minimi dettagli. Nella banda c'era chi impersonificava la persona che necessitava di un prestito, il datore di lavoro del soggetto che garantiva la copertura dell'eventuale restituzione con tanto di interessi. Insomma, un vero affare per le società finanziarie che largivano così credito alla banda che poi scompariva nel nulla senza restituire i soldi. L'artificio consisteva nel predisporre false buste paga e certificati unico dipendente con cui le società venivano indotte in errore, facendo affidamento sul rapporto di lavoro e sull'entità dello stipendio. Gli organizzatori delle truffe avevano addirittura domiciliato presso i propri uffici le sede delle imprese fasulle, tutto ciò per rendere più credibile l'esistenza dei rapporti con i fantomatici datori di lavoro. Veniva simulato l'interessamento con trasferimenti di chiamata da ufficio a ufficio che altro non erano che le case dei truffatori. 42 sono i casi di raggiro accertati per cifre che oscillano tra i 10.000 e i 30.000 euro. Dovranno tutti rispondere di associazione a delinquere, truffa e uso di atti falsi.